Questa dolcissima e tenera cagnolina di circa sei anni è protagonista di una triste storia che ha commosso tutti coloro che si sono adoperati per aiutarla. Si chiama Iside e faceva il cane da guardia in uno stabilimento del senigallese chiuso dopo l'alluvione del 15 settembre scorso. Lì è stata lasciata abbandonata se stessa, denutrita e malata ed è stata salvata dalle guardie zoofile dell'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, che l'hanno recuperata in sottopeso di almeno 10 kg con un'alopecia, da dermatite, da pulci e un tumore e hanno denunciato il proprietario per i reati di maltrattamento e abbandono di animali. Iside è arrivata qui alle 11 di sera, 11 e mezzanotte circa. È stata recuperata, trovata per caso? Per caso, da quello che so, le guardie zoofile erano in zona per fare un controllo a random e si sono accorte di questo cane dietro a una recinzione, era immobile praticamente e quindi hanno voluto approfondire. Oltretutto era denutrita in una condizione veramente difficile? Sì, infatti io la prima cosa che ho chiesto, quando mi hanno chiesto aiuto, ho chiesto è un cane buono, mi hanno detto guarda è sfinita, buonissima e sfinita. È arrivata, mi hanno mandato la foto con questa massa sotto l'addome enorme, senza pelo, un cagnolino veramente sfinito, provata. Iside è stata recentemente operata d'urgenza e si sta riprendendo lentamente, ma dovrà affrontare un lungo periodo di cure. Ricoverata d'urgenza con l'occasione è stata asportata la prima massa di tumore di un chilo e mezzo. E adesso ce n'è un'altra da togliere? Ce n'è un'altra, però prima di fare operazione si aspetta l'attacca, si valuterà insieme a un oncologo e alle veterinarie come intervenire, come andare avanti. Però il tumore asportato è risultato all'ultimo stadio, quindi vediamo adesso che non ci siano le metastasi, l'importante è quello, speriamo quello, che non ce ne siano. La cagnolina si trova in questo rifugio a Senigallia, dove è diventata la mascotta dei volontari dell'associazione Cuori Pelosi, che si stanno prendendo cura di lei. Il Lide l'abbiamo accolta noi a spese nostre e non tutti accolgono cani dei sequestri, anche quello è importante, dove andrà messo un cane che verrà sequestrato, non c'è sempre il posto dove mettere questi cani, quello è il problema più importante. I volontari invitano a segnalare casi di degrado e maltrattamento e di rivolgersi alle sue guardie zoofile, che nel pieno rispetto della privacy possono intervenire per tutelare gli animali. Grazie. Grazie. Grazie.